Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale, io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologie spiegate in modo semplice e comprensibile per tutti. Nel video di oggi andremo a testare e recensire insieme lo smartwatch con sistema operativo Wear OS di Watch Pro 5 che fondamentalmente rappresenta la migliore e unica alternativa al Pixel Watch 2 per chi possiede uno smartphone Android. Il dispositivo è arrivato sul mercato ormai da qualche mese, prima di recensirlo mi sono letto e guardato tantissime recensioni ma come sempre purtroppo nessuno lo ha provato veramente a fondo, tutti fanno le recensioni degli smartwatch stando seduti alla scrivania, nessuno fa veramente sport, nessuno corre, nessuno va in bici, nessuno fa crossfit e ditemi voi come si fa a provare un orologio sportivo senza fare sport. Io come sapete sono un grande sportivo e dopo aver stressato e testato a fondo il Garmin Venue 3, che mi è piaciuto tantissimo, ho fatto la stessa cosa con il TicWatch Pro 5, quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere la recensione e prova completa ma davvero completa di questo smartwatch. Prima di procedere, piccolissimo disclaimer, in questo caso il prodotto me l'ha inviato l'azienda per una prova completa, come sapete però io vi dico sempre quello che penso, se un prodotto mi piace ve lo dico, se non mi piace ve lo dico allo stesso modo perché non vi devo vendere niente. Adesso basta veramente con le chiacchiere, iniziamo con l'unboxing e vediamo cosa c'è in confezione. La confezione è molto semplice perché troviamo l'orologio, delle istruzioni rapide, il cavetto magnetico per la ricarica e nient'altro. E passiamo invece ad analizzare il design e i materiali di questo smartwatch. Il design non si discosta troppo dal precedente modello, anche se ci sono alcune differenze importanti. Esteticamente ha un design rotondo con misura di 50x48 mm e spessore di 12,2 mm. Il peso è di solo i 44 grammi. Tutto questo gli permette di non risultare né troppo grosso né troppo pesante al polso, anche se chiaramente non è adatto a chi ha un polso piccolo. Attorno al display abbiamo una bella corona zigrinata realizzata in metallo, mentre la cassa dell'orologio è in alluminio 7000 ultra resistente. Fortunatamente la corona è più sporgente rispetto al display di un paio di millimetri e questo permette di proteggere lo schermo da urti o graffi. Il cinturino in silicone è da 24 mm con sgancio rapido. Non mi ha mai dato alcun fastidio e non ha mai fatto sudare il polso. Ecco, penso tra l'altro che il cinturino del mio modello sia diverso da quello dei primi recensori, perché al contrario di quello che ho letto e visto il mio non sembrava affatto cheap, sicuramente non era premium ma neanche così economico. E poi era presente anche un pin che lo mantiene sempre fermo al polso, mentre nelle prime recensioni originali si sono lamentati dell'assenza di questo aspetto. Tornando a parlare dell'orologio, non manca l'impermeabilità fino a 5 atmosfere e la certificazione militare MIL-STD-810G. Sul lato sinistro abbiamo lo speaker, su quello destro troviamo due pulsanti fisici, uno ovvero e proprio, e poi abbiamo la rotellina per spostarci nei menu. Inferiormente abbiamo invece i vari sensori per la salute. I materiali sono veramente ottimi e l'assemblaggio è al top. Si vede immediatamente che abbiamo a che fare con un prodotto ben realizzato e resistente. Ho però notato che la vernice sulla corona si rovina molto facilmente anche al minimo graffio. Se vogliamo proprio trovargli un difetto, il suo design non ha niente che lo renda unico o attraente e l'orologio potrebbe risultare un po' anonimo al primo impatto. E parliamo adesso dello schermo, perché come di consueto su questo T-Watch troviamo un doppio display. Il primo è da 1.43 pollici OLED da 466x466 pixel. A questo viene sovrapposto un pannello LCD Transflective con retroilluminazione che si attiva in automatico con poca luce e tra l'altro possiamo personalizzarne il colore. L'unico contro di questa soluzione è che il pannello OLED appare un po' meno vivido e brillante rispetto ad altri smartwatch, ma niente di grave. Questa soluzione però garantisce un'ottima autonomia, mettendo comunque a nostra disposizione le informazioni fondamentali come orario, data, autonomia, passi e battiti. Il display Transflective infatti è molto comodo perché risulta sempre perfettamente visibile e in questa versione mostra ancora più informazioni rispetto al passato. Girando la rotellina laterale possiamo scorrere i quadranti del display per visualizzare altre informazioni come calorie bruciate, ossigenazione del sangue e altro ancora. Durante l'attività fisica invece la retroilluminazione cambia colore in base alla zona cardiaca. Il sensore di luminosità automatico funziona molto bene ed è molto precisa anche l'accensione automatica quando andiamo a ruotare il polso. Chiaramente è presente anche la modalità Always On sullo schermo OLED ma sinceramente penso che su un prodotto di questo tipo non abbia alcun senso di esistere anche perché va a ridurre drasticamente l'autonomia e poi abbiamo il display Transflective che ci permette proprio di evitare di usare l'Always On. Per quanto riguarda invece l'hardware, questo TicWatch Pro 5 monta il processore Snapdragon V5 Plus che è pensato specificatamente per smartwatch. Abbiamo poi 2 giga di RAM e 32 giga di memoria interna. Dal punto di vista dell'hardware abbiamo a che fare con un prodotto molto completo visto che abbiamo anche il chip NFC per i pagamenti, il microfono e lo speaker per le chiamate e il GPS. Non mancano poi bussola, altimetro, accelerometro, sensore di battito cardiaco e quello di ossigenazione del sangue. Chiaramente c'è una vibrazione che è sufficientemente potente e abbastanza precisa anche se sinceramente non è la migliore che abbia mai provato su smartwatch. Uno degli aspetti più interessanti di questo smartwatch è sicuramente la sua batteria e la sua autonomia. Parliamoci chiaro, non è un dispositivo che dura 2 settimane ma tutti gli orologi con sistema operativo Wear OS hanno un'autonomia molto limitata proprio per il fatto che offrono delle funzioni di un sistema operativo completo quindi non può essere paragonato direttamente ad uno smartwatch Garmin, ad un TicWatch. Detto questo comunque la sua batteria è da 628mAh quindi molto capiente e nel mio utilizzo normale ho sempre fatto 4 giorni di utilizzo pieno. Anche con uso intenso si coprono tranquillamente i 3 giorni. Inutile girarci attorno, è chiaro fin da subito che questo smartwatch è il migliore con sistema operativo Wear OS per quanto riguarda l'autonomia. E tra l'altro non dimentichiamo che possiamo estendere la sua autonomia fino a 45 giorni usando l'Essential Mod che praticamente disattiva i pulsanti laterali, utilizza solo lo schermo in bianco e nero, non ci mostra le notifiche e anche l'uso dei sensori viene ridotto al minimo. Tra l'altro faccio notare che l'Essential Mod si attiva automaticamente di notte sempre per prolungare l'autonomia. Molto interessante la presenza della ricarica rapida perché in 30 minuti ricarichiamo il 65% di batteria. E passiamo adesso a parlare dell'interfaccia e del sistema operativo che come abbiamo visto è Wear OS, quindi se conoscete già il sistema operativo di Android per smartwatch potete tranquillamente saltare questa parte del video perché è sempre lo stesso. Volendo essere precisi qui troviamo Wear OS 3.5 quando invece pochi mesi fa Google ha rilasciato il nuovo 4. Le differenze non sono tantissime perché il 4 è basato su Android 13 anziché su Android 11 e poco altro, però è importante notare che l'azienda Mobvoi non è sempre rapida nel rilasciare aggiornamenti, quindi non sappiamo se e quando arriverà Wear OS 4. Inoltre questo orologio è compatibile solo con dispositivi Android, non con iPhone, ma sinceramente se avete un iPhone compratevi un Apple Watch. Detto questo, una delle caratteristiche più interessanti di Wear OS è rappresentata dal fatto che essendo sviluppato da Google può accedere al Play Store per scaricare tutte le applicazioni pensate appositamente per smartwatch. Ad esempio possiamo scaricare tante app aggiuntive come Spotify, Deezer, Strava, Whatsapp e tante altre. Ovviamente è possibile cambiare quadrante e watch face, preinstallati ne troviamo tanti, ma possiamo aggiungerne ancora di più tramite l'app per smartphone o dal Play Store. Scorrendo la schermata principale verso il basso possiamo accedere a varie scorciatoie personalizzabili, mentre scorrendo verso l'alto possiamo accedere alle notifiche. Scorrendo verso destra o sinistra abbiamo invece le schede personalizzabili che mostrano tante informazioni come meteo, passi, minuti di attività, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, gestione musica, calendario e tanto altro ancora. Sono veramente tantissime le app preinstallate tra le quali vi segnalo. Tic barometro che permette di avere informazioni su pressione atmosferica e altitudine. Tic battito per misurare il battito cardiaco e la salute del cuore. Rileva la tachicardia, la barricardia, i battiti prematuri e la fibrillazione atriale. C'è poi tic bussola. C'è tic care che consente ad amici e familiare di vedere le informazioni relative alla nostra salute. C'è tic esercizio che permette di misurare l'attività sportiva con tantissime attività tra le quali scegliere. C'è tic ossigeno per misurare la saturazione, tic respiro per fare allenamenti di respirazione e rilassarci, tic salute per fare una panoramica delle attività svolte come passi, calorie, distanza percorsa, piani saliti, minuti di esercizio, ossigenazione del sangue, frequenza cardiaca e sonno. Tic sonno che misura il sonno con tante informazioni precise e dettagliate e tic zen per analizzare il livello di stress. C'è poi Mobvoi treadmill per chi utilizza il tapirulana dell'azienda, la misurazione one tap che in un click fa l'analisi di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, stress e salute del cuore e l'analisi dura circa 90 secondi. Oltre a queste app esclusive di Mobvoi ci sono poi tutte quelle di Google come ad esempio l'agenda, la calcolatrice, i contatti, il cronometro, Google Wallet, Maps, il Play Store, la sveglia, il telefono, il timer, la torcia e il trovatelefono. Molto interessante la presenza di Google Wallet perché ci permette di fare pagamenti dal polso tramite NFC. Come abbiamo già detto poi essendo Wear OS possiamo personalizzarlo a piacimento non solo come interfaccia e watch face ma anche con tutti i programmi disponibili sul Play Store. Per quanto riguarda la navigazione del sistema possiamo usare le gesture sullo schermo oppure i due pulsanti laterali. La corona rotante ci permette di accedere all'elenco delle app mentre il pulsante richiama le app recenti. Le loro funzioni però non sono personalizzabili e sinceramente mi sarebbe potuto utilizzarli maggiormente per interagire col sistema. Nel complesso comunque il sistema operativo è sempre veloce, scorrevole e fluido e semplicissimo da usare. Tutte le funzioni sono a portata di mano e facilmente accessibili. Inutile girarci attorno, Wear OS è il sistema operativo più completo e personalizzabile nel panorama Android. C'è però un'importante mancanza da segnalare, al momento non è presente l'assistente di Google. Doveva essere lanciato dopo l'arrivo dello smartwatch sul mercato ma ormai sono passati parecchi mesi e dell'assistente non c'è traccia. Un'altra cosa da segnalare è rappresentata dal fatto che nel sistema ci sono alcune traduzioni imprecise. Un esempio su tutte, l'orologio parla di pressione quando invece si riferisce ai livelli di stress. Un altro piccolo nero da segnalare per quanto riguarda gli aggiornamenti software, come abbiamo già detto in precedenza, l'azienda purtroppo non è nota per essere particolarmente rapida nel rilasciare aggiornamenti di sistema operativo. Chiaramente per gestire l'orologio abbiamo un'applicazione, Mobvoi Health, disponibile per i nostri smartphone e fortunatamente rispetto al passato non ne servono più due, è sufficiente scaricare questa. Dall'applicazione possiamo vedere le statistiche su sonno, attività sportive, batti di ossigenazione, stress, energia e tanto altro. Possiamo modificare le impostazioni dell'orologio e delle app installate al suo interno e possiamo scaricare nuovi quadranti gratis o a pagamento. L'app in generale è ben fatta, semplice da navigare e con tutte le funzioni a portata di mano. Per quanto riguarda la gestione delle notifiche questo orologio è assolutamente promosso a pieni voti, anche perché grazie al sistema operativo Wear OS la gestione delle notifiche è perfetta. Possiamo infatti vedere tutte le notifiche da tutte le app comprese dell'oricone, possiamo rispondere alle notifiche con la voce, con la tastiera sullo schermo o con risposte preimpostate, possiamo rispondere alle telefonate con il microfono e lo speaker, possiamo vedere tutte le emoji e possiamo vedere le foto ricevute su WhatsApp e altre app di messaggistica. Insomma la gestione delle notifiche è super completa a tutti i livelli. Segnalo però che le notifiche restano sullo schermo veramente per pochissimo tempo, quindi se voi non andate a girare subito il polso per leggere la notifica, questa sparisce e ve la dovete recuperare dai menu di sistema. Sinceramente avrei credito che restasse per qualche secondo in più in modo da lasciarci un po' più di tempo per andare a leggerla. Come abbiamo detto sull'orologio è presente un altoparlante e un microfono che ci permette di rispondere alle telefonate direttamente dal polso. Il volume dello speaker è buono durante le telefonate, anche se non fortissimo. In generale comunque in chiamata l'interlocutore ci sente abbastanza bene anche se l'orologio non è attaccato alla nostra bocca. Ehi G? Ehi, ciao. Ciao, come mi senti? Ehm, molto bene, molto chiaro. Addirittura molto bene. Sì, il volume è molto alto. Oh, bene, sono contento. Senti molto rimbombo? Ehm, no, no, non eccessivo. Ok, va bene, ti ringrazio. E passiamo adesso ad un aspetto molto importante, cioè la precisione dei dati raccolti dai suoi sensori. Ecco, io come vi ho anticipato ho testato veramente a fondo e stressato come si deve questo orologio e queste sono le mie considerazioni. Per quanto riguarda il battito cardiaco è preciso solo quando siamo a riposo o solo quando l'orologio è posizionato alla perfezione. Ho fatto tantissimi test su vogatore, ellittica durante la corsa e durante crossfit e in tutti i casi ho fatto fatica a fargli rilevare correttamente i battiti. Ho provato a stringerlo più o meno a spostarlo sul polso, ma alla fine ho capito che lui è preciso solo quando vuole. Quando i battiti salgono o scendono rapidamente impiega molto tempo a rilevare la variazione. Quando invece i battiti sono costanti, sia alti che bassi, risulta in linea con la fascia cardiopolar. Ad ogni modo non è adatto a chi ha bisogno di un'analisi precisa dei battiti durante l'attività sportiva. C'è anche la possibilità di monitorare la salute del cuore, ma fortunatamente non ho avuto bisogno di testarla. Lui comunque, oltre alla frequenza cardiaca, può rilevare la febrillazione atriale, il battito prematuro, la tachicardia o la bradicardia. Purtroppo però non può fare ECG. Lui rileva anche il VO2 max, ma secondo me i dati rilevati sono un po' troppo ottimisti. In base al valore che mi ha assegnato, cioè 54, dovrei essere un atleta olimpico. In realtà il mio valore, di solito indicato dal Garmin, è un pochino più basso. Chiaramente c'è poi l'ossigenazione del sangue e anche questa è precisa solo a riposo o durante il sonno. Se la misuriamo su richiesta, infatti dobbiamo stare immobili e non sempre è precisa al primo colpo. C'è poi il monitoraggio del sonno, che è sufficientemente preciso ma non perfetto. In varie situazioni ha registrato come sonno i momenti pre e post dormita, quando magari avevo il telefono in mano per leggere messaggi ed email. Altre volte ha rilevato che mi sono svegliato molto prima rispetto alla realtà. Mentre dormiamo, sfrutta anche il sensore di temperatura corporea per fare un'analisi più approfondita di sonno e salute, ma non misura la febbre. Dall'app possiamo vedere varie informazioni sulle fasi del sonno, la FC media, l'ossigeno nel sangue, la frequenza respiratoria e tanti altri dati. Purtroppo però il contrario del Garmin non invia un report mattutino, ad esempio quando ci svegliamo, che sarebbe comodo per sapere rapidamente come abbiamo dormito. Poco male comunque perché possiamo recuperare tutti i dati tramite l'applicazione. Per quanto riguarda la misurazione dei passi, in generale mi è sembrata abbastanza precisa, anche se in alcuni casi leggermente sovrastimata rispetto alla realtà. Molto buona invece la precisione del GPS, anche se un pochino lento l'aggancio dei satelliti, che impiega sempre almeno 15 o 20 secondi. Tutti i miei percorsi comunque sono stati tracciati sempre in modo molto preciso e con errori assolutamente tollerabili di pochissimi metri. Tra l'altro dalle impostazioni possiamo attivare la modalità alte prestazioni, che migliora ulteriormente la precisione, facendo una scansione dei satelliti più frequente ogni secondo anziché ogni tre. In questo modo va a consumare più batteria perché si passa dal 6 al 10% di consumo all'ora. E veniamo adesso all'analisi della parte sport, cioè come si comporta lui per quanto riguarda l'utilizzo durante le attività sportive. Tramite l'app Tic Esercizio possiamo monitorare tantissime attività, oltre 100, ma comunque possiamo scaricare dal Play Store tante altre app per tenere sotto controllo i nostri sport. Parlando però dell'app ufficiale, per quanto sia ben fatta e semplice da usare, è un po' limitata per uno sportivo come me. Prima di tutto è vero che abbiamo a disposizione oltre 100 attività sportive, ma a parte la corsa nessuna di queste ha delle metriche dedicate. Inoltre anche le varie schermate dei dati sono molto meno personalizzabili rispetto a un Garmin. Certo abbiamo sott'occhio le informazioni base, come la durata dell'allenamento, le calorie e i battiti, ma niente di più. Nella corsa ad esempio non abbiamo le ripetute, nel vogatore non abbiamo le vogate. Inoltre non è possibile importare o caricare mappe offline o tracce GPX. Trovo molto scomoda inoltre la modalità di fine allenamento, perché non possiamo usare i pulsanti fisici ma dobbiamo fare affidamento allo swipe sullo schermo, che però funziona male se abbiamo le mani sporche, bagnate o sudate. Ci sono i pulsanti fisici sarebbe comodo poterli usare per stoppare l'allenamento. Lui comunque può riconoscere alcune attività sportive in automatico come la corsa, la bicicletta o la camminata e avviare di conseguenza il rilevamento. Per ogni allenamento possiamo impostare lo scopo dello sport come ad esempio la perdita di peso, restare in salute o altro. Nel crossfit la sua corona sporgente mi ha dato parecchio fastidio durante gli allenamenti con bilanciere, push up e in tutti i casi nei quali la mano si piega molto verso il polso. È fortunatamente dotato della funzione di pausa automatica per alcune attività, durante l'allenamento l'orologio parla e ci restituisce un feedback su come sta andando la nostra attività e fortunatamente è possibile esportare alcuni dati in altre app come Google Fit, Strava e simili. Manca però un profilo dedicato al triathlon o al multisport. Insomma parlando della parte sportiva, questo orologio probabilmente va bene per il 99% delle persone che vogliono semplicemente monitorare a grandi linee la propria attività sportiva senza però scendere troppo nel dettaglio dei parametri rilevati. Gli sportivi più esigenti come me invece resteranno sicuramente delusi dalle rilevazioni e dalle funzionalità di questo orologio per l'analisi dello sport. Prima delle conclusioni come di consueto passiamo al prezzo. Questo smartwatch viene venduto a 359€ su Amazon però si trova spesso in offerta attorno ai 300€. E come di consueto dopo il prezzo arriviamo alle conclusioni. Cosa ne penso di questo orologio. Come ho detto in apertura di video se parliamo di ecosistema e mondo Wear OS lui non ha molta concorrenza perché l'unico concorrente è il Pixel Watch 2 che è vero che ha dei sensori più precisi ma costa di più, è molto più delicato e ha un'autonomia nettamente inferiore perché parliamo di un giorno contro quattro. Sicuramente ci sono i Galaxy Watch di Samsung, anche questi molto più precisi e con funzioni aggiuntive perché ad esempio misurano la pressione e fanno anche le CG. Però c'è un grosso limite perché a parte il prezzo più alto funzionano solo con smartphone Samsung. Quindi di nuovo chi ha un telefono Android e vuole uno smartwatch vero con Wear OS può scegliere praticamente solo questo. E comunque questo TicWatch Pro 5 è perfetto per chi vuole un orologio che si possa usare all'aria aperta senza preoccuparsi troppo di urti o cadute, per chi vuole una panoramica generale sul proprio benessere psicofisico, per chi non vuole ricaricare l'orologio tutti i giorni, per chi vuole comunque un sistema operativo potente, aggiornato e personalizzabile a 360 gradi, per chi vuole gestire e vedere correttamente tutte le notifiche dal polso e anche gestire le telefonate sempre dal polso, per chi vuole un prodotto che sia compatibile con tutti gli smartphone Android e per chi vuole monitorare le proprie attività sportive senza entrare troppo nel dettaglio però. Come già detto questo orologio è praticamente perfetto per chiunque, gli unici che potrebbero restare un po' scontenti sono gli sportivi più esigenti che sinceramente dovrebbero rivolgersi a Garmin, però nello stesso tempo dovrebbero essere disposti a spendere di più, perché uno smartwatch Garmin preciso e affidabile multi sport costa almeno 500-600 euro indicativamente. Quindi in conclusione questo TicWatch Pro 5 è uno dei migliori orologi intelligenti per chi possiede uno smartphone Android e per chi è soprattutto interessato alla parte smart e un pochino meno quella sport. Benissimo ragazzi, io con questa recensione ho concluso, se il video vi è piaciuto o stato utile come sempre fatemelo sapere con un like, a voi non costa nulla ma per me è fondamentale per continuare a fracrescere questo canale. E se ancora non l'avete fatto iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi video. Se avete dubbi o delle domande fatevi sentire qua sotto nei commenti, come sapete io rispondo sempre il prima possibile. Io vi ringrazio di nuovo per la visione, vi do appuntamento al prossimo video, un saluto e alla prossima, ciao da Riccardo.